Maria Sofia Federico ritorna finalmente alla Rocco Academy che si è ufficialmente conclusa rincontrando suo papà e sua mamma in aeroporto dopo i numerosi video di litigio fra la famiglia che sono girati nel web Maria Sofia ha convinto i genitori a far pace in maniera molto forzata secondo alcuni che fra l'altro ci memano anche ironizzando sulla battuta dell'indosso a un oggetto rosso che sta in perico riferito ai genitori i motivi principali del litigio secondo Maria Sofia erano che i suoi genitori sono scandalizzati per i commenti che l'utenza faceva su di lei nel web e non realmente per il fatto che girassi dei video pornografici ma non aggiungo altro vi lascio filmati noi ci vediamo un prossimo video in linea studio in linea studio hanno detto che voi non mi avete capito ma siete rassegnati ormai no noi siamo rassegnati e ti spiego il perché è un'ora che va di carro il treno eh cioè voglio dire questa è la rassegnazione 60 minuti sinceramente posso dire per il resto la rassegnazione sono commenti ignoranti come i vostri che sono anche il motivo per cui i miei genitori all'inizio hanno raggiunto cioè hanno reagito male perché erano molto spaventati per il mio intraprendere la carriera da sex worker però poi hanno capito che l'approccio migliore non è la difesa e quindi impedire a me di essere libera ma contrastare questa cosa supportandomi quindi per favore rassegnatevi pure a capire questa cosa anzi è l'accettata la città è l'accettata la città è l'accettata